Mille accendini, carta, impossibile Eccola qua, gioco e tutorial, no voglio il gioco Giochi di prestigio, questo voglio Grande mille, guarda con queste intro, andiamo a vedere Ah ecco, pensavo si potesse fare da OBS Cosa? Credo che ci sia l'impostazione hobby e il software streaming che usi Credo che ci sia qualche impostazione su hobby Ok, 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 ok Sì, devo, 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 assolutamente Mi sembra che non puoi farlo adesso perché è ancora partner di Twitch Il canale YouTube della scuola lo sponsorizzi poco? Sì, perché non, cioè voglio che lo scopra soltanto la gente veramente interessata Grande leppi Tutorial veloce, no, adesso andiamo a vedere il buon vecchio Mille, raga Lo ricordate? Questo è il primo gioco di magia che ho mai imparato in tutta la mia vita Cioè è stato proprio il primo Un mazzo di carte Cuori, quadri, fiori, picche Mostro le carte e ne faccio scegliere una Raga, questa presentazione io gliel'ho copiata Gliel'ho copiata Io, cioè Mazzo di carte, cuori, quadri, fiori, picche Mostro le carte e ne faccio scegliere una Questa frase io penso di averla ripetuta 8000 volte Mentre scorro dimmi stop quando vuoi Stop, perfetto, prendi una carta Che poi non serve niente quando, cioè a sto punto se scorri le carte e dimmi stop Forza ne una, no? Scorro le carte e dimmi stop, ok, prendi ne una Ma scusa, scorro le carte e dimmi stop e ne prendi una così Così, così è una grande 1000 Quoi con lo spam, 1000 accendini qua Una carta qualsiasi, guardala, ricordala La rimetti nel mazzo E così da qualche parte Disperza nel mazzo Istantaneamente doppio, triplo taglio Non aspettare un secondo Rimetti la carta Ok, perfetto Tra un po' che ti faccio vedere un gioco No, istantaneamente rimessa subito Cioè proprio Sgamabile Guarda come le mescola Ora Oh, buon miscuglio il 1000, eh Disperza nel mazzo Oppa Da qualche parte disperza nel mazzo Ora Nonostante il mescuglio Io credo che la carta scelta si trovi più o meno Credo al centro del mazzo Terribile Secondo me la carta scelta potrebbe essere una di queste Vediamo un attimino con calma Guarda le carte, ma non mi aiutare 8 di fiori 9 di cuori Asso di quadri E poi abbiamo un 9 Pulito il 1000 Secondo me la carta era una di queste Ecco sì Era una di queste carte Ha fatto una Non è una Hemsley Sarebbe un altro nome Tipo Stemion Ma Terribile Guarda questa sicuramente no Questa sicuramente sì Questa no Questa sicuramente sì No Bello però No Quindi Non il 9 Non il 9 Non il 9 Non l'8 E questa è la tua carta Sì Sì Così La carta è sparita Grande mille Niente in questa mano Niente in questa mano Niente 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 La carta è davvero sparita Dove andrà Senti come gongola il 1000 Niente 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 È davvero sparita Comunque pulito per ora il 1000 La carta è rientrata nel mazzo Ed ora È anche l'unica Ad essere affaccinato nel mazzo L'asso Di quadri Senti la musica che pompa sotto Bello Piccolo errore Da prestigiatore Inesperto 1000 Mi dispiace Tra l'altro questo è il momento più visto Secondo me quando la fa sparire Guardate Era una di queste carte Sì Quando fa rabadab Questa sicuramente no Questa sicuramente sì Esatto Questo è il momento più visto Quando fa rabadab Comunque piccolo errore di 1000 Dal mio punto di vista È ovviamente qua Siamo a mettere le virgole Per migliorare gli effetti Guardate qua La carta è davvero sparita Dove è andata la carta La carta è rientrata nel mazzo Eccolo qua Avete notato qualcosa? Uno può dire No Eh vi dico io che cosa è successo 1000 Ingenuamente Ma è un fratello eh Mostra le carte Che non c'è la carta scelta E cosa fa? Andata la carta La carta è rientrata nel mazzo Le rimette sopra il mazzo Questo dal mio punto di vista E dal punto di vista Della magia spagnola La quale Per fortuna Incarno Nel senso che L'ho studiata L'ho imparata E Sono nato Diciamo La mia magia È figlia Della magia spagnola C'è la cosiddetta Tecnica del cameriere Che cosa vuol dire? Vi racconto in breve questa storia Vi spiego prima che cosa ha fatto Qual è l'errore Poi vi spiego la tecnica del cameriere Lui ha lasciato queste Tre carte Le ha riprese Le ha rimesse sopra il mazzo E poi ha fatto il finale Dal mio punto di vista Queste tre carte Le avrebbe dovute lasciare sul tavolo E avrebbe dovuto far vedere Che tra quelle Non c'era La carta scelta Ok? Perché? Perché Dopo Vi faccio vedere Dall'alto Come sembra Guardate Ok? Dall'alto Io Faccio vedere Che Supponendo Guarda vi faccio l'effetto Questa è la carta scelta Il nove di fiori Che si lascia da qualche parte Così si mescola Ok? Tac Si mescola In mezzo al mazzo E vado A tagliare in un punto E prendo Le prime Facciamo Quattro carte Vediamo se c'è la carta scelta Tra queste Ok? Lascio Il mazzo qua Vi faccio vedere Che potrebbe essere Una di queste quattro Faccio Sparire Una carta E dico Vedi? Il nove di fiori Non c'è Perché? Perché è ritornato In mezzo al mazzo E guardate questa immagine Questa È la tecnica Del cameriere Ok? Questa è la tecnica Del Metti una categoria Alle live Eh non so come si fa Abbiate Abbiate pazienza Capito? Questa è la tecnica Del cameriere Cosa vuol dire? Vuol dire Che Ora Quando lo spettatore Guarderà Il tavolo Immediatamente Avrà l'immagine Di quello che è successo Mi spiego Questa tecnica Del cameriere È stata Inventata Da Diciamo Ideata Da un certo Gabi Pareras Che vi faccio vedere Immediatamente Chi è Giusto per la vostra Cultura personale Morto recentemente Eccolo qua Io l'ho conosciuto Di persona Mago Incredibile Incredibile Un teorico Veramente I suoi numeri I suoi effetti Sono I più belli Mai fatti O meglio Le routine Che creava lui Erano perfettamente Logiche E Ogni movimento Aveva un senso Ok Che cosa vuol dire La tecnica del cameriere Beh insomma Gabi Pareras Un giorno Racconta Questa storia Lui andava Sempre A mangiare In un Posto Dove c'era Questa Cameriera Che non segnava Mai gli ordini Ciao Leo Non segnava mai Gli ordini Non scriveva mai Appena Niente Però Ogni volta Anche tavolate Di dieci Di venti persone Ogni volta Che Si arrivava A pagare il conto La cameriera Diceva Vado a vedere Che cosa avete preso Guardava Al tavolo Vedeva I piatti Che erano sul tavolo Ciao Pisti Vedeva i piatti Che erano sul tavolo Faceva il calcolo Tornava lì E il calcolo Era giusto E Gabi Pareras Che 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 era Interessato Ad ogni cosa E metterla nella magia Ha detto Ma caspita Ma come fa Questa signora A vedendo Semplicemente I piatti Che sono sul tavolo A capire Che prezzo Farci pagare E non sbaglia mai Interessante E lui si è accorto Che questa cosa Può essere utile In magia Ovvero Lasciare i piatti Sparecchiati Questo è il senso Della tecnica Del cameriere Perché se io Finisco il gioco Finisco il gioco Ho ritrovato la carta scelta Le carte erano qua E ti dico E la carta Ritorna L'unica carta girata In mezzo al mazzo Quando io Appoggio le carte qua Lasciate stare le carte di topolino Quando riappoggio le carte qua Uno riguarda il tavolo E qual è l'effetto? Ditemi qual è l'effetto È diverso Immaginate Ciao cards Questo è il finale E io Non sparecchio Uno può Immediatamente capire Che la carta Magari era tra queste Ed è arrivata In mezzo al mazzo Ogni volta Che riguarda Il Il tavolo Questa è la tecnica Del cameriere Spiegata tra virgolette In breve Quindi Non sparecchiare l'effetto Mille accendini Ha sparecchiato l'effetto E secondo me Ha sbagliato Quindi Immaginatevi Per esempio Classico effetto Rosse e nere Che si intersecano Ok Io Le interseco tutte Bla 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 E a un certo punto Le rosse e nere Si separano Ok Questo potrebbe essere il finale Io lascio le carte così Nere Rosse Immaginate che faccio Lo stesso effetto Rosse e nere Mescolate Si separano Le riprendo E le metto via Qual è l'effetto? Cosa è successo? Quando uno riguarda Non ha capito Non gli rimane impresso L'effetto Quindi Piccola Sottigliezza Sottigliezza Per il buon vecchio mille Comunque L'effetto è molto buono E vi voglio far vedere Una cosa in più Guardate Questo effetto Il trucco della carta extreme La carta extreme Vorrei fare un gioco Extreme Dove metto una carta sul tavolo Sin dall'inizio Sempre piaciuto l'idea di fare un gioco dove La carta si trova davvero Sin dall'inizio sul tavolo In vista E questa carta rappresenta una predizione Una Siccome ho una Questa carta rappresenta una predizione Questa è il gioco della carta extreme Che in realtà È un Un insieme di tecniche Di effetti Che in realtà Sono jumping Gimini Classico della carta magia Che lui ha chiamato Carta extreme Racchiude una serie di cose Comunque Molto molto valido Lo andiamo a vedere E lo commentiamo assieme Mille Numero uno Cosa importante Quando uno dice Cercherò di muovermi nel modo più lento possibile E immediatamente dopo fa un dribble Per le persone È veloce quella roba Cercherò di muovermi nel modo più lento possibile E magari tengo il mazzo così Capito No Tento di muovermi nel modo più lento possibile Faccio un dribble No no Meglio di no Però queste sono Sottigliezza Ecco Stop Stop Mi fermo in questo punto Mi muovo lentamente Comunque Vediamo che mi è fermato sotto il 2 di picche Prendi pure la carta Guardala Ricordala E mettila dove vuoi nel mazzo Capito Non è lento Non è lento Se io faccio la premessa Cerco di muovermi nel modo più lento possibile Devo essere lento Certo Una carta In questo mazzo Non mi aiutare Io comunque ho Diciamo delle sensazioni Io credo Ok Che il rete che te hai scelto Magari possa essere un Asso Un asso di quadri Ma dai Asso rosso Di quadri Ha un burlone il mille Ma io avevo fatto una predizione Ed era qui sul tavolo Sin dal mezzo E la mia predizione Non è un caso È Asso di quadri Non è un caso Cosa che ha detto? Non è un caso Rosso Rosso Ok Rosso Ma c'è una coincidenza Molto più grande Tu hai inserito la carta In un punto del mazzo Che non è un punto qualsiasi Interessante È un punto dove noi abbiamo Il terzo E il quarto Asso Tra tutte le carte Possibili Noi abbiamo coinvolto Nel gioco I quattro assi Abbiamo coinvolto Nel gioco i quattro assi Beh interessante Comunque questo Diciamo Molto base È un buon opener Cosiddetto Opener Per appunto Far apparire i quattro assi Ci sono mille modi Questo è molto carino Per coinvolgere Convolgere in gioco I quattro assi Convolgere Convolgere lo spettatore Più che gli assi Secondo me È molto interessante L'idea di Far toccare la carta Rimetterla in mezzo Quello è buono Secondo me ci sono Modi Migliori Ma comunque questo Non è male 1, 2, 3 E 4 assi Gli assi sono 4 Ma possiamo dividerli In due categorie Terribile Se possiamo dividerli In assi neri Ad esempio Terribile Nel senso Chiudo L'asso nero Di fiori Ad esempio L'asso nero Di picche E i assi rossi L'asso di picche Io non lo metto Sopra Ma Sotto In maniera tale Che qui abbiamo I due assi rossi E qui abbiamo I due assi neri Ok Figo Qua ha fatto Due cose giuste Diciamo La tecnica Ha fatto un buckle Grande come un camion Poteva farlo Molto più Stretto Però vabbè Insomma Però ha fatto Ha fatto una cosa Molto figa Ovvero Quando ha fatto Riapparire Gli assi neri Tra l'altro La prima volta Che lo vedi Questo effetto Ti distrugge Il cervello E in un momento Di sorpresa Ha preso Gli assi neri Li ha messi In cima al mazzo E qui può fare Il seguito Del gioco Quindi Furbo il mille Questo Questo è un bel gioco Ma c'è un problema C'è un bel gioco Il problema è che hai Troppe carte Da guardare Sevi con attenzione Non l'insieme Degli assi Ma solamente L'asso Nero Va bene Lo seguiamo Perché c'è un modo Il cosiddetto Modo normale Di portare L'asso di picca Da sopra A sotto Questo è Il cosiddetto Modo Normale Ok Di spostare Una carta Dico questo Perché esiste Anche un modo Il cosiddetto Modo magico Di portare L'asso di picca Da sopra A sotto Prendo l'asso di picca Lo metto sotto E l'asso di picca Passa sotto Prendo l'asso di picca Lo metto sotto E l'asso di picca Passa in cima No 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 Nel senso Buono Per uno che ha Le prime armi È buono Ma non puoi Cambiare grip Da qui A qui Capito Cioè Se tu mi tieni La carta In posizione Così E dopo Mi tieni La carta In punta Di dita È palese Che stai Per fare Qualcosa Dopo Ve lo faccio Vedere Con la telecamera Da sopra Ma Cambiare grip Per fare una Mossa Sottolinea Dal fatto Che c'è Una Mossa Prendo L'asso di picca Lo metto In mezzo Eppure In un attimo Lasse La prima Carta Del mazzo Lo appoggio Sul tavolo Lasse La prima Carta Del mazzo Prendo L'asso Figo Questa è la sequenza Classica Jumping Giminii Tutte le volte Che dico Che l'asse È sotto In realtà L'asse È sopra Se dico Che è sul tavolo L'asse La prima Carta Del mazzo Io so Cosa In questo momento Tu stai pensando Tu Stai pensando Che magari Io ho Nelle mie mani Quattro Carte Uguali No In realtà Stavo pensando Che si poteva Fare meglio Questo gioco Però Scherzo Grande Mille Ti vogliamo Bene Non è sbagliato Se noi potessimo Davvero Vederle Sono Quattro Carte Uguali E la prima Di queste È un dieci La seconda Carta È un dieci La terza Di queste carte Ancora una volta Un dieci Una serie di carte Che però Non sono assi Sono una serie Di quattro Dieci Rossi Come ho fatto A scambiare le carte Perché questo è quello Che in effetti ho fatto Ho scambiato Le carte Guardate questa mossa Rimarrà nella storia Questa mossa Che sta per fare Visto ma Per un attimo Mi sono avvicinato Al mazzo E ho cambiato le carte Come ho fatto Del resto Anche ora Perché se ora Noi andiamo a controllare Le carte Bello Scopriamo che ora Io ho una donna Noi scopriamo che ora Io ho una coppia Di donne Scopriamo che è un triste È un poker Di donne Wow Wow Ha fatto il flicker Ancora prima Che lo facesse Zack Muller Ed era il gioco Dei quattro assi È finito Ed è il gioco Delle quattro Donne Che è un bel gioco Ma ci lascia Con una Domanda E la domanda È Dove Saranno Ha flashato il mondo Con una Domanda E la domanda E la domanda è Dove Saranno Da un po' lei Questo l'hai spiegato su youtube Questo è raga È un classico Veramente un classico Ma io vedendo il video di questo Ho cominciato Eh sì Altra cosa Io ho leggato Sì sì Allora Grande Usufruitore di frutti Completamente d'accordo Grazie per questa lezione Ma figuratevi raga C'è posta per te Con la mia Ma porca puttana Ma io vedendo il video di questo Ho cominciato Ha ragione Non è Un caso Le cose sono sempre due Non è un caso Second Dill Invece della filatura Sì ci sta Non è male Come idea Ma dipende dal Dal Dalla situazione